E ne dico un seminole, lo chiederò al santone E i liquidi croccanti e quelli scarsi A Carrara e Scarfi Tu credi a Gianluca Bacchi e l'amor Io credo nel santone dello svapò Bene ragazzi, bentornati a una nuova live su Twitch del martedì sera Questa sera parliamo di un argomento interessante dal mio punto di vista Perché finalmente mi hanno fatto una domanda che non avevo mai ricevuto Come si smaltiscono le sigarette elettroniche? E effettivamente non ne avevo mai parlato di questa cosa Anche perché è un problema che è venuto fuori ultimamente Allora, le sigarette elettroniche dovrebbero essere considerate RAE Sicuramente sono RAE perché sono dispositivi elettronici Quindi vanno smaltiti come si smaltiscono i cellulari fondamentalmente Ma adesso andiamo a vedere cos'è un RAE RAE è l'acronimo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Che in inglese troviamo con Wii spaventoso Wast of Electric and Electronic Equipment Molto Wii è anche più cazzuto Due sono i problemi legati a questo tipo di rifiuti In primis la loro tossicità per l'ambiente e secondariamente la loro non biodegradabilità L'abbandono nell'ambiente delle apparecchiature elettroniche o la fine del loro ciclo In discariche e termovalorizzatori rappresenta un grave problema di inquinamento Per suolo, acqua e aria e naturalmente per la salute umana 10 sono le categorie in cui vengono suddivisi il RAE 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo Quindi noi saremmo nella 4 sicuramente 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici Beh no, forse allora siamo anche nella 6 Forse siamo anche nella 6 7. Giocattoli e attrezzi elettronici per sport e tempo libero Giocattoli e attrezzi elettronici per sport e tempo libero Forse potremmo anche essere in questa 8. Dispositivi medici Potremmo anche essere in questa 9. Strumenti di monitoraggio e controllo Potremmo anche essere in questa 10. Distributori automatici Però no, qui penso che non potremmo essere in questa Però potremmo anche essere un distributore automatico Non è molto automatico come distributore Ma nel suo piccolo è un distributore Comunque ragazzi Lasciando stare le risate che ci possiamo fare Sono RAE E questo ci basta All'interno di questi prodotti sono presenti materiali come Rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, piombo e mercolio Che se opportunamente riciclati possono diventare Materie prime per nuovi prodotti Per favorire la transazione di questi rifiuti Da un'economia lineare A un'economia circolare Spaventoso E' stata emanata a livello comunitario una direttiva RAE Recepita in Italia dal decreto RAE I RAE vengono trattati in centri autorizzati E seguono varie fasi La bonifica, la messa in sicurezza Con l'asportazione dei componenti pericolosi Lo smontaggio e la separazione dei materiali La lavorazione meccanica necessaria al riciclo Proprio per implementare la circolarità dei materiali presenti nei RAE E facilitarne lo smaltimento A partire dal 18 giugno 2010 E' stato reso possibile conferire gratuitamente Rifiuti elettrici ed elettronici al rivenditore Secondo la procedura definita Uno contro uno Per ogni prodotto acquistato Si conferisce gratuitamente un prodotto della stessa tipologia Al punto vendita Dal 22 luglio 2016 I negozi con un'area superiore a 400 metri quadri Hanno l'obbligo di allestire un'area Per il ritiro dei RAE Secondo la modalità uno contro zero In questo caso gli elettrodomestici Non più funzionanti Possono essere consegnati ai negozi Con una superficie superiore ai 400 metri quadri Senza alcun obbligo d'acquisto E' interessante questa cosa Quindi nel caso in cui Metti che è Boh media world Per dire Vendesse sigarette elettroniche Si potrebbero addirittura smaltire lì Nel caso la sua superficie Sia più grande a 400 metri quadri Nessun negozio è più grande di 400 metri quadri Ma se ci fosse un negozio di sigarette elettroniche Più grande di 400 metri quadri Potreste addirittura smaltire lì le sigarette elettroniche Infatti io ragazzi Allora alla bottega del Santone Michele ha già messo La raccolta delle batterie Ad esempio Che è una cosa Per me è assolutamente da fare Io sarei onestamente orientato a fare la raccolta delle sigarette elettroniche usate all'interno dei negozi di sigarette elettroniche Sono sincero e ne discuterò con Michele anche per implementare questa cosa all'interno della bottega del Santone Staremo a vedere insomma Però è sicuramente un servizio che può fare molto comodo al cliente Alla persona che magari non è all'interno della community Non guarda i video online Insomma la signora Maria per dirne una Che si compra una sigarette elettronica Che non va più Tante volte mi è stato chiesto Quando ero negoziante Ma me la butti via te per piacere Quindi Magari ci sono già tanti negozi Che fanno questa cosa Ma sicuramente può essere qualcosa di utile Nello scorso luglio A due anni dall'entrata in vigore della procedura Uno contro zero Guardiamo quando era lo scorso luglio Questo qui è del 3 ottobre 2018 l'articolo E quindi lo scorso luglio È relativo ovviamente a questa data A due anni dall'entrata in vigore della procedura Uno contro zero Ecco Dom Il consorzio italiano per il recupero e il riciclaggio elettrodomestici Ha reso noti i dati di un'indagine Secondo la quale il 73% degli italiani Non è a conoscenza della possibilità Di conferire gratuitamente i RAI Nei negozi più grandi di 400 metri quadri Vedete infatti io Non la sapevo sta cosa qua Se da una parte occorre Una maggiore informazione Un attimo ragazzi che cambio schermo Così guardo in camera Se da una parte occorre Una maggiore informazione Presso l'utenza Dall'altra necessario Un adeguamento alla normativa Da parte dei punti vendita Secondo i dati Ecco Dom I negozi Risultati più ricettivi Sono stati quelli di Media World Vedete Nel 31,1% Di casi E di Euronics Nel 18,4 e 1 euro Nel 15,6 Naturalmente le buone pratiche Sono anche a monte Quando valutiamo L'acquisto di un nuovo smartphone O di un nuovo notebook Pensiamo con attenzione All'impatto Che un nuovo acquisto Può avere sull'ambiente È stato calcolato Che se una persona Cambia il proprio telefono Cellulare ogni 4 anni Invece che ogni 2 Il risparmio ambientale È quantificabile In 37 kg Di gas serra In meno Nell'atmosfera La consapevolezza Sull'argomento Sta aumentando Da due anni La Francia Ha introdotto Nella propria legislazione Il reato di obsolescenza Programmata Con conseguenze penali Per gli amministratori Delegati dell'azienda Che violano la legge E multe Fino al 5% Del fatturato Generato in territorio francese Ah vedete Quindi in Francia Non si può più fare Obsolescenza programmata Perché se no Li rovinano Ragazzi Beh Io onestamente Sono d'accordo Su questa cosa Ragazzi Perché l'obsolescenza Programmata Cioè insomma Non si può andare Sempre contro Sempre Dar sempre Piede al capitalismo Nonostante tutto Ci sono apparecchi Che effettivamente Potrebbero andare da dio E che vengono invece Buttati E sono d'accordo Su sta cosa Inoltre A partire dal 2020 Questo qui È dell'anno scorso Ogni prodotto tecnologico Sarà contrassegnato Da un'etichetta Indicante Indicante L'indice di riparabilità Ah Vedete Questa non la sapevo L'indice di riparabilità Interessante Le rivoluzioni culturali Partono sempre Da una volontà politica La speranza È che l'esempio francese Indichi la strada Verso un consumo Meno Esasperato E una riduzione Dei rifiuti E un'economia Circolare Più diffuse Qui su meno rifiuti Utilizziamo Ok Quindi Per rispondere a tutti Facendola molto breve Sono RAE E dovete portarli Alle isole Preposte Per lo smaltimento Dei RAE Ok Adesso andremo a vedere Come si smaltisce Un RAE Cioè Metti che il negozio Non ti dà L'opportunità Io penso Che voi Dobbiate Contattare Il vostro Comune E sapere Dov'è l'isola ecologica Vicina Di modo che Li andate a portare All'isola ecologica Da me c'è Era Una volta c'era Era Adesso c'è Un'altra cosa Che non mi ricordo Come si chiama Che comunque Alle isole ecologiche Lì potete portare I vari I vari rifiuti No Però fatemi vedere Smaltimento Smaltimento RAE Diamo un'occhiata Qua cosa dice No qua dice Di aderire A un consorzio Robbe varie Comunque ragazzi Se dovete portarli Nelle isole ecologiche Dove gli operatori Ve li faranno dividere In relazione A quello che è La loro fine Insomma Comunque Sono RAE E possono rientrare In una categoria Da quello che abbiamo letto Mi sembra che vada Dalle 5 Alla 9 Ok Perché la 10 La 10 penso di no Però insomma Bisogna andare Nelle isole ecologiche Allora ragazzi Io adesso chiuderò la live Ma la riaprirò Di modo che Questa qui La re-uploado Totalmente Si dice re-uploado Faccio un re-upload Totale Su Youtube Di quello che ho detto Perché comunque Insomma Ci tengo Che rimanga Che la veda più gente possibile Quindi ragazzi Per questa parte Vi ringrazio Vi saluto con l'ultima svappata Le sigarette elettroniche Sono RAE Smaltitele correttamente E che lo svappo Sia con voi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ah!